Bene cari amici, in questo secondo video di questa parte della giornata, come vi avevo già preannunciato, parliamo di basket, lega Supercoppa 2020 che domani sarà all'atto finale, credo che la final 4 si stia giocando a Bologna, mi pare al paladozza. Allora, innanzitutto la finale sarà Olimpia Milano contro Virtus Bologna, in virtù sapete Milano, come vi ho detto ieri, ha battuto Venezia 76-67, Bologna invece ha vinto 88 contro 76 al cospetto di Sassari. Per quanto riguarda ovviamente i gironi, andando un po' a memoria, credo che Milano abbia vinto tutte le partite a Virtus Bologna, solo 5 vittorie ed una sconfitta. domani, allora, vediamo se riesco a trovare l'orario della partita. Alle 18, domani la finale, ovviamente come tutte le altre partite che ci sono state su Eurosport, tramite Sky Fibro, Satellitare o Eurosport Player, quindi vediamo chi avrà la meglio, se le scarpette rosse o Bologna. Noi ci vediamo per il terzo e ultimo video momentaneo, tra massimo una mezz'oretta, quindi saluti a tutti e a dubbolo. Ciao amico, ciao!